E' stato ospite in collegamento di La Vita Indiretta di recenti Vincenzo Spadafora, il ministro per lo sport d'Italia, il quale avrebbe detto abbiamo finalmente pubblicato ufficialmente il protocollo che consente alla FIGC, alla Lega e alle squadre di Serie A di riprendere gli allenamenti. E' arrivato l'ok definitivo del comitato tecnico scientifico. L'altra importante novità è che il 25 riceverò dalla FIGC il protocollo per la ripresa del campionato, quindi nuove regole che la FIGC ci propone. Trasferirò queste linee guida al comitato tecnico scientifico in mio impegno a fare in modo che quando arriveremo all'incontro del 28 giovedì con tutte le componenti del mondo del calcio si possa già avere un orientamento del CTS per decidere insieme se riprendere e quando. E infine il ministro spadafora, il ministro per lo sport avrebbe annunciato che per tutti i centri come le palestre, nella prossima settimana sul sito del governo sport.governo.it verrà messo a disposizione un sostegno a fondo perduto, perché effettivamente molte di queste strutture sono state chiuse per ben tre mesi di tempo e secondo ogni, chiamiamola ipotesi logica c'è stato un danno a livello economico. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, iscrivetevi se vi va, commentate, fornitemi la vostra opinione un saluto reale, una radio italiana.